Piacere di ritrovare Paolo Pescetto di Redfish Long Term Capital. Buongiorno Pescetto. Buongiorno a voi. Pescetto, dobbiamo parlare di un sacco di cose, perché vi ho visto parecchi attivi negli ultimi giorni, mi capita pennello, insomma, l'ospitata, perché dobbiamo parlare dell'aumento di capitale che avete fatto, ma soprattutto dell'aumento di capitale, attenzione, a premio! Una novità, sai che siamo innovativi, eh? Io e gli aumenti di capitale ultimamente quelli che ho visto, insomma, no, ce n'era uno che è stato fatto anche qui a premio, cos'era BF, e anche voi, ben meno, mi raccontano, 1,55 euro, giusto, l'aumento di capitale. Da quanto? Da quant'è? Beh, sino a quasi 15 milioni, la soglia tecnica sarà 14 milioni 990 mila euro, non ho capito ancora perché, ma c'è un arrotondamento delle cifre decimali. Ovviamente la scelta del premio è dettata da due fattori, uno che il nostro patrimonio netto è 1,55 per azione, quindi una motivazione tecnica che ovviamente non potevamo tradire la fiducia anche di tutti quelli che hanno investito precedentemente andando fuori con un aumento di capitale che fosse inferiore a quello che i libri contabili dicono essere il nostro valore netto, contabile, di patrimonio netto. Il secondo è perché noi stessi ci sentiamo un po' sottovalutati alle attuali quotazioni che sono intorno a 1,40, 1,38, esatto, e vogliamo dare un segnale forte che l'azienda vale molto di più di questo. E ovviamente la sfida è doppia perché di fronte a un'azione da 1,40, raccogliere a 1,55 c'è un po' traggio, no? No, no, sì, sì, sì. Però a me le sfide piacciono. Ah beh, non so, insomma il suo excursus lavorativo è sempre stato contornato di sfide, quindi... Non è tutto qua perché sarà collegato per gli investitori che investono cifre importanti e che quindi scommettono sul lungo termine nell'azienda, stiamo parlando di cifre superiori a 1 milione o superiori a 3 milioni di cifre importanti, saranno collegati nel tempo dei bonus share, a 12 e a 18 mesi. Quindi un premio di fidelizzazione che porterà poi il prezzo effettivo dell'aumento di capitale ha un valore, diciamo, se uno rimane fedele nel tempo, più conveniente rispetto all'attuale quotazione in borsa di 1,40, quindi porterà il prezzo dell'azione appunto sotto 1,40. Detto questo, quindi cerchiamo investitori importanti, quindi 1 milione o 3 milioni, e che siano fedeli nel medio e lungo periodo, 12-18 mesi. Ma lì sta a voi comunque sia pescetto, a renderli, a fidelizzarli. Sì, ma li fidelizziamo sui risultati, ovviamente non posso anticipare nulla, ma evidentemente il bilancio che uscirà sarà molto buono di long termine, che quindi incentiverà a rimanere, e speriamo appunto che anche l'azione segua il valore del titolo. E poi anche le nuove scommesse, tra cui hai raccontato di Polieco, che ha dei programmi di breve periodo, dei 18 mesi molto importanti. Vabbè, allora parliamo di Polieco. Allora, volevo fare il passettino sull'aumento di capitale, questi soldi che entreranno con l'aumento di capitale serviranno per finanziare l'operazione Polieco? Assolutamente sì. Polieco è un'operazione rotonda, da 31 milioni di euro, che prevede l'acquisizione sia in aumento di capitale per un primo 10%, più abbiamo un'opzione per un acquisto quote dal socio, unico socio attuale, manuale. Cosa fa Polieco? Redfish è una holding di investimento, e fino a lì ci siamo. Voi avete in portafoglio, poi arriviamo anche ai protagonisti, tra l'altro alcuni anche protagonisti di mercato. Polieco la volete fare entrare nel vostro portafoglio di partecipazione. Il programma è semplice. Allora, Polieco lavora delle batterie plastiche e resine, in particolare ha una posizione di leader di mercato nell'ambito appunto dei tubi corrugati, quello che stai mettendo in immagine. Cosa servono? Servono per il trasporto dell'acqua, sia acquedotti, sia fognature. Quindi sono questi tubi che poi vengono interrati, e grazie a questa formula, alla corrugazione che viene fatta attraverso uno stampo, sono più resistenti quando li metti sotto terra, resistono alla pressione. E quindi sostanzialmente noi abbiamo un acquedotto a livello italiano, ma tutto a livello europeo, molto vecchio, i primi sono stati romani a farli, poi probabilmente non sono gli stessi, li hanno rinnovati, ma si parla di un 70% di perdite di leakage di acqua all'interno appunto del trasporto dell'acqua. Per cui c'è un programma di investimenti infrastrutturale molto importante e Polieco è uno degli attori principali europei di questo mercato, con una presenza sia a Brescia, sia in Sud Italia, sia nel sud della Francia, in Grecia e in Repubblica Ceca, con stabilimenti che fanno questi tubi corrugati. Il problema di questo tubo corrugato è che arriva anche a una dimensione di 1,40 m di larghezza, per cui quando vengono trasportati uno trasporta aria, e quindi sostanzialmente dopo un certo chilometraggio, circa 600 km, diventa inefficiente il trasporto. Per quello si sono sviluppati in Europa una sessantina di impianti che producono questo tubo corrugato, perché il trasporto dell'acqua è abbastanza comune, è una commodity a livello europeo, sebbene è un mercato che tendenzialmente ha una crescita del 2-3% all'anno di sostituzione. L'unica alternativa è la condotta di cemento, magari l'hai visti... Vabbè, anche questi, li vedi durante gli schiavi. Esatto, quindi è un prodotto abbastanza... Prima tu trasporti aria, con la condotta di cemento trasporti peso. Esatto, ancora peggio. Quindi la logistica definisce la concorrenza, quindi la concorrenza è locale, nord Italia, sud Italia, sud della Francia, nord della Francia... Esatto, è una tecnologia ormai matura, dove ci sono tanti player, anche intorno ai 50-60 milioni di fatturato, che sono quelli un pochettino più... Questi di Poglietti quanto fatturano? Su questo tubo fatturano 100 milioni, in totale 205 milioni come società. Però, essendo un business maturo, come mai l'idea di entrare... Conoscendovi, voi di solito prendete bassi bassi per cercare di vendere... Perché poi ci sono gli altri 105 milioni interessanti, no? Oltre a questi 100 milioni, sono 100 milioni nelle resine, sono delle resine speciali e quello è un business un po' più innovativo e sono a servizio degli operatori che fanno anche gli tubi, ma in acciaio, per l'oil e in gas. Quindi Tenaris, piuttosto che i grandi operatori che costruiscono dal Nostream, quello famoso che è stato poi danneggiato, rispetto alle altre condotte che ci sono state, dei vari passaggi di trasporto del gas o dell'oil, che vengono poi fatti da WeBuilders, Snam, piuttosto che da altri... Quindi nel mercato ce n'è. Esatto. E che anche lì, diciamo, fanno il tubo in acciaio, queste società, no? Dopodiché lo devono rivestire per dargli delle caratteristiche specifiche, a seconda che vada a 2000 metri sotto il mare o in un deserto o in un territorio più avverso. Questo rivestimento è fatto di queste resine che produce Polieco vicino a Brescia. È uno stabilimento unico, invece lì il prodotto ha un alto valore aggiunto e viene trasportato benissimo in tutto il mondo, con una presenza commerciale, quindi uffici commerciali più leggeri, anche in Sud America, Nord America. 100 milioni di fatturato per quella linea di produzione. Invece poi la chicca è il tombino. Il tombino. Il tombino. Il tombino di resina, cioè che va a sostituire il tombino di ISA, che sostanzialmente ha delle caratteristiche storiche di implementazione in tutte le nostre città, ma che ha una caratteristica, ahimè, negativa oggi, che non è trasparente alle onde radio. Attualmente, specialmente in Nord Europa, c'è ormai l'automazione di tutti quelli che sono i meters di rilevazione dei consumi di acqua. Stanno sotto i tombini e non parlano. E attualmente, per rilevare questi dati, ci vuole l'omino che va. Allora, in sostituzione dell'omino, si vuole avere dei sistemi trasparenti che trasmettino, per via trasferitale o via cellulare o quant'altro, questi segnali per raccogliere. Oggi il mondo è data-driven, se ne mancano i dati, purtroppo hai un handicap. In Francia, che è il primo mercato di questo tombino, si sta sviluppando molto, non c'è un vantaggio anche qui di costo di sostituzione o di motivi ecologici piuttosto che altro, anche se effettivamente la ghisa ha anche un costo di costruzione energivora. Quindi c'è magari anche uno scopo, se vogliamo, anche ISG nella sostituzione, ma di fatto l'elemento scatenante è diviso, avere i dati in tempo reale dei trasporti, che possono essere di telecomunicazioni, acqua, tutto ciò che viene oramai interrato ha bisogno poi di trasmettere i dati in modo trasparente. E questo tombino è veramente un brevetto della Polieco, prodotto anche qui a Brescia, ad alto valore aggiunto, per cui uno stabilimento unico in tutto il mondo. Ma qual è questo qua? Vediamolo per favore. Lo provi sul sito, esatto. Era quello lì? Esatto. Semplice, una tecnologia però che deve essere resistente anche ai camion che passano sopra, quindi ha delle caratteristiche di resistenza che lo rendono ovviamente equivalente. Il costo quant'è rispetto all'altro? Ma più o meno oggi è marchetato a livello equivalente, diciamo che il margine invece è un po' superiore, è quello che ci piace. Ci credo, ci credo. Cerchiamo di fare le cose non per convenienza del cliente ma per utilità, no? Questo dà un valore aggiunto e ancora una nicchia, una nicchia che ha cubato circa 7 milioni di euro però all'interno del bilancio con una forte propensione nella crescita. No, anche perché ce ne sono da cambiare di tombini in Italia e nel mondo. Assolutamente, questa è una scommessa che l'imprenditore ci ha trasmesso con un entusiasmo veramente... Ci crede. Sì, anche se però voglio dire anche gli altri due business che girano il 20% delle EBITDA sono carini. 20% delle EBITDA? Sì. Sui tubi? Sui tubi, sì. Leggermente più basso sui tubi, siamo su un 18, 18-19, è un 22% sulla resina, il medione è un 20%. Questi? Sui tombini? Eh, non me lo ricordo. Va bene, va bene. E con quanto entrate nella Polieco? 15% totale, come ti dicevo, 10% in aumento di capitale per 20 milioni, anche se apparentemente l'azienda APFN, cassa positiva. Addirittura. Quindi ci saranno questi 25 milioni messi lì sul conto corrente per qualche motivo. Minaccia i pizzini, pescetto, bene, bene. Ma... Sai che non si può dire nulla, non si possono anticipare... No, lo sapete che a me lo dico, c'è una fatica qua per cercare di tirarmi fuori le cose qua. Ma io lo puoi dire. C'ho quelli dietro la telecamera, delle compliance che mi guardano sempre male. A me mi mettono direttamente in manette, cassa. Allora, parliamo invece della questione, cosa volevo dire, delle holding, della partecipazione. Come sta andando il mercato, le partecipazioni, come stanno andando? Le partecipazioni sono ottime, parliamo dei risultati che abbiamo annunciato recentemente su Movinter, che è un'aggregazione sicuramente importante, che ci vede attori. Quella dei treni, giusto? Esatto. Eh, capita, che so le cose. Bravo. In cui abbiamo fatto una grossa acquisizione per Movinter, che è la Six Italia, che fattura 16 milioni di euro. Quindi Movinter, che quando l'abbiamo vista nel 2021, all'inizio del 2021, fatturava circa 16 milioni, poi l'abbiamo acquisita che fatturava 22 milioni. Quest'anno è uscita con un più 30% del fatturato, e quindi andrà circa a 28 milioni, a cui si aggiunge Six per 16 milioni. Quindi creiamo un gruppo con Focus Treni, che supera appunto i 45 milioni. E non ci fermiamo qua, perché abbiamo in previsione un'altra target, però lì vedremo se saremo fortunati entro a fine dell'anno, che porterà il gruppo vicino ai 60 milioni. Treni, ma la Six ha anche un angolo sul navale. Abbiamo questa visione che effettivamente noi siamo anche contesi nell'aerospaziale, entrandoci dentro a questi che poi sono terzisti, perché non è che facciamo l'aereo finito, il treno finito o la nave finita. Sono componentistiche all'interno di un settore che richiede delle alte performance e certificazioni molto potenti. Vediamo che ci sono delle forti similitudini tra chi opera con Leonardo, con Itachi e Aston, che è il caso di Movinter, o con Fincantieri nel caso di una divisione di Six. E vediamo che il lavorare insieme e mettere insieme le tecnologie porta dei vantaggi. Oggi sono due investimenti separati, ma Movinter fa delle commesse con Tesi, perché Tesi ha delle eccellenze nella lavorazione della lamiera, Movinter ha delle eccellenze nella saldatura, nei tubi e Six ha delle eccellenze nei materiali compositi. Le tre aziende insieme, è come se tu leggessi, un'azienda da 80 milioni, comunque gli impianti ce l'hai, non sono aziende unite, sono investimenti separati, ma stiamo incentivando la collaborazione industriale tra questi player. Se ci aggiungiamo anche la nuova e futura acquisizione, è un gruppo che subodora i quasi 100 milioni, che in Italia comincia ad essere una cifra che torna bene. E' il nostro target, lo dimostra anche quella citata prima. E' scelto, quando me le porta in borsa queste qua? Ci stiamo lavorando, forse Polieco potrebbe essere quella più vicina, ovviamente la borsa vuole degli ingredienti particolari per fare il premio, vuole dei risultati solidi e la Polieco ce l'ha, vuole però anche un management aggressivo, in grado di utilizzare i proventi della borsa in acquisizioni. Quindi il nostro intervento a fianco del management e dell'attuale proprietà, il signor Tonelli, la famiglia Tonelli, che rimane in stella, anzi lunga vita e prosperità a tutta la famiglia, che anche l'amministratore delegato, il figlio, ha preso le redini. Questa è che vince e non si cambia. Esatto, però una giuntina, una giuntina, un po' Rezic, che dovrebbe dare quella spinta di M&A che abbiamo saputo dare alle altre partecipate. Ricordiamo che Expo Inos ci siamo entrati un anno fa, abbiamo già fatto un'acquisizione in Inghilterra, adesso stiamo guardando un altro mercato in Nord Europa, ma non possiamo dire nulla, perché qua siamo nel mondo dell'omertà. Però siamo lì per far questo, quindi anche in Polieco siamo entrati con questo mandato di aiutarli a accelerare. È un'azienda che produce un 30 milioni di cassa all'anno, gliene abbiamo dati altri 20, qualcosa si riesce a combinare. Anche se il nostro Stato vorrebbe tanto che sottoscrivessimo dei BTP valore, diciamo che tendenzialmente siamo portati a fare altro. Il valore lo trovi da altre parti. Ma sta diventando un bel polo quello sui treni? Comunque ci state lavorando con quelli di Omer, con Russello in Sicilia? Non lo conosco. Ma sei troppo avanti. Sei troppo pescetto. Parliamo di Borsa, come sta andando il mercato dei GM? A parte che me l'ha già detto tra le righe che non è soddisfattissimo. Non sono soddisfatto, però penso che chi pensa che il problema glielo deve risolvere un altro sbaglia. Per cui noi siamo molto attivi nel andare a promuovere la nostra azienda, i nostri risultati e le attese future che ci aspettiamo. Per quanto limitata sia la parte di comunicazione di quelli che sono i piani industriali che della stessa long term. Con investitori li raccogliamo appunto ogni settimana e cerchiamo di incontrarli. L'occasione ovviamente dell'aumento di capitale è un'occasione unica. Siamo andati anche oltre Alpe, siamo andati a Cannes a gennaio a presentare la long term a grossi investitori. Com'è andata? Andata bene. Andata bene, considerate. Voi siete anche quotati in... Abbiamo Innovate RFK che è quotata a Parigi, però devo dire che oramai Euronext è un mercato conosciuto per tutto. Cioè, metterei di dire Parigi, Italia eccetera, no? Poi in realtà è ancora molto campanilistico. Però a livello di investitori comunque sia ancora... non c'è stato questo abbattimento dei confini nonostante l'Eurex. Quei francesi stanno comunque sempre là in Francia, gli italiani qua. Però ci muoviamo, siamo usciti recentemente, la settimana scorsa, con una ricerca in tedesco, fatta da un broker, mi sembra, di Francoforte, che ci guiderà anche nel far conoscere l'azienda agli investitori in Germania. Quello che abbiamo visto, sia con la presenza a Cannes che la seconda presenza all'IPEM, perché la prima è stata a Parigi a settembre, e quindi per incontrare nuovi investitori, anche internazionali, ma soprattutto francesi, e avrò anche una conferenza il 21 di questo mese, spero non in tedesco, perché non ho ancora chiarito qual è la lingua, però altrimenti... Vabbè, c'è il traduttore... ormai l'intelligenza artificiale ti traduce in simultanea. Allora mi faccio presentare l'artificio dell'intelligenza, però sai meglio. Però, e per dare quella spinta, abbiamo scoperto che mediamente le aziende francesi quotano intorno al 9-10 per le bidda. E le aziende tedesche ancora di più, 12-14 per le bidda. Addirittura? Ah no, sapevo questo. E noi 4-5-6. E noi 4-5-6. Noi stiamo girando con questi valori a 4 per le bidda. Forse ci meritiamo questo, non lo so, ma tante altre aziende sull'EGM sono molto virtuose. E quindi, quando noi raccontiamo questa cosa, suscitiamo un vero interesse. Poi c'è la barriera, come dici tu. Quindi, il risparmiatore tedesco che volesse prendere una small cap italiana, paga 40-50 euro di commissione. Quindi non è fatto per il piccolino, no? Perché ancora non c'è questa elasticità di poter fare gli investimenti. Cerchiamo, attraverso questo broker tedesco, poi di superare questa barriera. Perché effettivamente là c'è un mondo che non è abituato a questi sconti che abbiamo noi sul mercato. Non ci aspettiamo che lo facciano le istituzioni. Vedi il private equity, che invece sta facendo festa qua da noi in Italia. Sì, sì, sì. Ma infatti l'Italia è attenzionata. E noi abbiamo giocato questa carta del private equity. Perché siamo una holding, è vero, quotata. Però il modo in cui facciamo business, al di là che noi siamo di lungo periodo, quindi non cediamo le partecipazioni, si assomiglia un po' a quello che fa il private equity. Noi diciamo che siamo meglio, perché teniamo le azioni più a lungo e quindi possiamo sfruttare le onde lunghe dei trend, come quello dei treni, che sicuramente vogliamo tenere in partecipazione per un lungo periodo. Però, quindi, siamo quotati. Quindi la finestra, anche per un asset manager, di poter prendere di fatto una quota di private equity in Italia. Molto più semplice, no? E l'apprezzano la cosa? La capiscono, prima cosa, e chi la capisce l'apprezza? Allora, la capiscono. Poi ci sono ancora alcune barriere. Però stiamo negoziando con diversi player internazionali che potrebbero rappresentare una pietra migliare per il futuro. Hanno già fatto operazioni in Italia, non sul quotato, sia su private equity che su hold in investimento, quindi sono familiari all'oggetto. Sono incuriositi dal fatto che sia quotata, anche se poi questo scollamento dal NAV e la quotazione un po' li lascia... Cioè, è vero lo sconto, ma quando trovi una cosa troppo a sconto, un po' di dubiti vengono. E quindi la due diligence, però... Però quelli che conoscono il mercato sanno che comunque sia noi viaggiamo a sconto. No, ma infatti... Ecco, questi operatori poi parlano di somme multipli di 5, 10, 15 milioni, no? Per cui si possono permettere anche di investire in due diligence e quant'altro. Cosa che l'investitore medio, anche il nostro asset manager che si affronta l'ICM, che mette i due o trecentomila euro, non può andarci a spendere di due diligence per verificare sotto il vestito, sotto il powerpoint che vai a comunicare, no? Se effettivamente c'è la sostanza che noi abbiamo. Tant'è vero che se tu vedi quando alcuni investitori istituzionali, è quello che è successo, per esempio, in FAE, che è entrato un private equity, anche con una cifra piccola, 2 milioni di euro, il titolo è schizzato. Perché? Perché vuol dire che da solidità, se ci ha investito un private equity, vuol dire che la due diligence, i numeri, i piani, sicuramente l'ha visto e vanno bene. Questo è l'effetto che un po' vorremmo dare anche noi come Redfish, no? Se noi entriamo in una società è perché l'abbiamo spulciata, in più ci mettiamo i nostri uomini con deleghe, come diciamo nel CDA, quindi controlliamo, e quindi pensiamo che quando le proponiamo in quotazione, come è successo anche con il vecchio amico di Solid World, un beneficio di credibilità ce l'abbia. Poi i risultati... Poi però devi confermarli, eh? Esatto. Però non li abbandoniamo, siamo ancora nel CDA di Solid World, così come siamo nel CDA di Convergenze. Convergenze, per esempio, anche per noi è un titolo... Prechio bastonato. ...estremamente sottovalutato rispetto al comparto delle telecomunicazioni. E quest'anno, nonostante l'annuncio che sarà il miglior anno di sempre, di Convergenze... Ah, si è sbozzonato! No, l'ha annunciato! Ero per... Dicco solo informazioni pubbliche. Va bene. Sì, vediamo se si riallinerà, a parte dei prezzi, per comunque quelle società lì, ma tutto... Ma noi ci crediamo. Abbiamo la possibilità di rimanerci dentro sinché non esprimerai i risultati veri. Senta, Pescetto, il mio tempo di disposizione è finito, però le tocca tornare quando finalmente può dirmi qualche cosa. Andata? Ma io ti direi anche tu. No, lo so, lo so. Poi ci portano via entrambi, quindi meglio di no. Rimaniamo così quando ci sarà l'ufficialità delle cose, insomma. Ti ringrazio molto, è stato un piacere. E buona giornata a tutti. Paolo Pescetto, Redfish Long Term Capital. Allora, grazie a tutti per l'attenzione e come sempre rimanete su Classi NBC.